Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove per lavori tra Cinestra Fiorentina e Lastra Signa si segnalano due chilometri di coda in direzione Firenze. Il traffico invece per il momento scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana. In A1 per lavori di pavimentazione stanotte, in orario 22.6, sarà chiuso lo svincolo di Incisa Reggello, in uscita in direzione Roma. Si ricorda che a Firenze è stata prorogata fino al 29 luglio la scadenza dei permessi ZTL e ZCS e i contrassegni di Isabelicude, in scadenza tra il 31 gennaio e il 30 aprile. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio!